Purtroppo spesso pensiamo, quando parliamo di missione, e pensiamo alla Degentes, tantissimi, tante nostre comunità, tante nostre diocesi anche pensano che sia quanti missionari ancora se abbiamo ancora la forza di inviare missionari in giro per il mondo. Questo è un aspetto importante, necessario, ma non è l'unico e neanche il più importante, perché oggi, quando parliamo di missione, dobbiamo parlare di doni, di scambio tra le chiese. Allora, quello che noi doniamo, ma anche quello che noi riceviamo ed accogliamo, perché penso sono più le cose che noi accogliamo dagli altri che non portiamo agli altri. Allora, una delle domande principali è ma che cosa la missione oggi può dare alla nostra pastorale, alle nostre comunità cristiane? Se si parla di missionarietà come orizzonte, paradigma anche oggi della nostra pastorale, quanto come chiese, come comunità, dobbiamo aprirci veramente non solo ad inviare, ma anche ad accogliere un nuovo modo di essere chiesa, un nuovo modo di essere comunità cristiana. Questo, penso, è il passaggio ed il cammino che anche come chiese del Triveneto siamo invitati a fare.